Accoglienza ucraini, comuni di Pineto e Arci. E' questo il nome del progetto volto ad assicurare continuità di accoglienza nelle strutture locali del terzo settore dei cittadini ucraini sfuggiti dalla guerra e che sinora hanno trovato ospitalità negli alberghi e nelle strutture ricettive della città. La Direzione Nazionale di Arci si è infatti resa disponibile a ampliare la sua accoglienza diffusa per i rifugiati ucraini sul comune di Pineto, fino al raggiungimento di un massimo di 400 posti. Il passaggio è importante perché oggi si consente a loro di vivere autonomamente e quindi di non essere più in qualche modo chiusi nella stanza di un albergo ma di rimanere intanto sul territorio per tutta la durata di questa emergenza senza il rischio di essere spostati da un giorno all'altro come ai noi. Sta accadendo perché sappiamo che l'accoglienza nelle strutture ricettive era un'accoglienza provvisoria e quindi di essere anche autonomi, beneficiare anche di una vicinanza da parte dell'organizzazione, dell'Arci e di tanti servizi che sono utili all'integrazione e anche alla loro dignità. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha vallato tale proposta di ampliamento con le strutture individuate con Arci Teramo nell'ambito comunale che risultano disponibili per essere occupate. Merita molta attenzione perché è un progetto vero di integrazione quindi stiamo parlando di un'attività che già si è sviluppata dal momento dell'accoglienza di primo livello quindi l'accoglienza alberghiera e che in questo momento si svilupperà appunto dando seguito all'accoglienza alberghiera con un'accoglienza nel terzo settore. Quindi sono persone che sono qui e che rimarranno qui. Il trasferimento nelle strutture in accoglienza diffuse iniziato il 22 febbraio 2023 proseguirà gradualmente fino al completamento con il supporto logistico per i trasferimenti attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Il progetto di accoglienza, come tutti i progetti di accoglienza, è chiaramente una grande sfida per l'integrazione di queste persone. Le nostre linee guida saranno quelle del SAI, cioè del Sistema Nazionale di Accoglienza del Lanci e di fatto saranno tre grandi temi. Quello che riguarda lo screening sanitario, quindi la salute, la scuola per i più piccoli perché quelle categorie che abbiamo sono ovviamente categorie fragili, anziani, donne e bambini. E l'ultima è quella dell'integrazione per il lavoro e quindi l'italiano in modo tale che è la prima porta di accesso per poter lavorare nella nostra società.